Prosegue l'opera di completamento degli organici dell'azienda sanitaria provinciale di Messina con l'immissione in servizio di due nuovi primari. Il primo maggio infatti hanno preso servizio il nuovo direttore della struttura complessa di neurologia dell'ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dottore Filippo Lopresti, e il nuovo direttore della struttura complessa di coordinamento dei consultori della provincia di Messina, dottore Vincenzo Sanzarello. Dopo lo sblocco delle assunzioni disposto dall'assessore per la salute Ruggero Razza, dice il direttore generale Paolo Lapaglia, stiamo completando la nostra dotazione organica immettendo in servizio i nuovi vertici di divisione ospedaliere e delle strutture territoriali per meglio organizzare l'offerta sanitaria e le attività di prevenzione del territorio. Il dottore Lopresti dirigerà la divisione di neurologia dell'ospedale di Barcellona con il compito di coordinare le neurologie degli ospedali dell'ASP di Messina ed è già a lavoro per la prossima apertura della Stroke Unit all'ospedale di Sant'Agata di Militello. Il dottore Vincenzo Sanzarello invece coordinerà l'offerta dei servizi sanitari consultoriali con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili e alla divulgazione di buone pratiche per la sensibilizzazione delle adolescenti alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.